Oggi siamo andati in Trentino a scovare un nuovo vino bianco da testare prodotto dall'azienda Santa Margherita è un vino molto promettente ma vediamo tutti i dettagli durante il nostro test. Il vino che abbiamo scelto oggi è un classico Gewurzerminer. Iniziamo la nostra analisi con la valutazione generale dell'esterno della bottiglia. L'etichetta punta alla semplicità con un stile classico e lineare che conferisce eleganza alla bottiglia. Questo vino è un sistema di chiusura ormai molto diffuso. Il tappo è infatti un agglomerato a grana molto fine. Anche se in linea di massima questo tipo di chiusura è sempre considerato meno efficace rispetto al classico monoblocco, in questo tipo di vini non destinate l'invecchiamento può essere una scelta adeguata. A livello visivo il vino si presenta di un gradevole giallo pallirino senza evidenti difetti legati a problemi fermentativi o di conservazione. Ruotando il bicchiere si nota subito l'elevata viscosità ottima e anche la trasparenza che si può apprezzare guardando il calice contro luce. Al naso l'intensità aromatica è notevole con un ampio bouquet. Subito si percepiscono frutti bianchi come pesca matura e pera insieme a un intenso aroma floreale di rosa e di giozzumino. Tutto accompagnato da una lievissima mineralità. I profumi si presentano particolarmente ben bilanciati e gradevoli e nel complesso il vino regala sensazioni superiori a quelle che ci si aspetterebbe da un prodotto di questa fascia di prezzo che è intorno ai 10 euro. Anche al palato il gusto risulta particolarmente ben bilanciato. La leggera dolcezza di questo Gewurztraminer riesce ad accompagnare perfettamente l'acidità e il vino risulta particolarmente persistente anche dopo la deglutizione. Data l'eleganza e la aromaticità di questo vino consigliamo di abbinarlo con piatti di pesce, di verdure e anche con piatti particolarmente speziati. Mi raccomando seguiteci su youtube e su facebook. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao!